Un pari che rinvia il verdetto di una settimana. Il Monopoli non va oltre l'1 a 1 sul campo del Rieti e rimanda la festa per la qualificazione ai playoff. Per sfidare la squadra di Eziolino Capuano il tecnico bianco-verde Scienza si affida a Magni per i reatini già matematicamente salvi peso dell'attacco sulle spalle della coppia maestro Sviderkoski. A scattare meglio dei blocchi è decisamente il Rieti. I laziali si rendono pericolosi con Marchi il cui sinistro al minuto 6 termina a lato e trovano il vantaggio all'undicesimo con Cernigoi che chiude al meglio un'azione partita da calcio piazzato. Il vantaggio dei padroni di casa non scuote il Monopoli che continua a subire. La punizione di Sunas al 42esimo è il primo squillo dei bianco-verdi che vanno a riposo sotto di un gol. Nella ripresa scende in campo tutto un altro Monopoli. Minuto 55 Sunas serve Gerardi che non sbaglia per l'1 a 1 bianco-verde. Quattro minuti più tardi l'estremo laziale Costa è straordinario nel dire di no a Magni. Sulla respinta Sunas non trova la porta. La seconda frazione è decisamente di marca bianco-verde. Al minuto 80 Costa riesce ad opporsi in due tempi al tentativo ancora una volta di Sunas. A 5 dal termine rischia grosso la squadra di scienza. Pissardo è providenziano nell'anticipare Brumat in uscita evitando un gol praticamente fatto. L'ultimo sussulto del match è ancora di marca reatina. Calcia Brumat e blocca Pissardo. Finisce 1-1. Il Monopoli dovrà centrare il play-off nel match interno di domenica prossima contro il Siracusa.